eseguirò questa ballata di pizzica con la sola armonica a bocca senza tamburello l'armonica a bocca strumento della tradizione che noi chiamiamo e chiamavamo organetto non sempre c'era la mia tamburella a portata di mano nella maggior parte dei casi sì ma l'armonica a bocca era uno strumento che la maggior parte dei contadini avevano in tasca nel suo giro per esempio erano più belli e dunque ce l'avevi subito a portata di mano dopo eseguirò questa ballata senza tamburello grazie a tutti 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 grazie a tutti